salve, lei è la cliente che ha richiesto il trattamento completo vero? la vedo, posso toccarla? la vedo molto accaldata, vuole rinfrescarci un po'? certo, si adesso che questa te la mettiamo in questi dolcissimi contenitori a forma di frutta, si perché richiamano la freschezza, no? prego glielo lascio qui, puoi berlo quando vuole, tranne che durante il trattamento le dispiace se le tiro un attimo indietro i capelli, qui ha due fasce, ok, quale preferisce il coniglio o il gattino? scelgo io, ok, il gattino, direi? sì, ecco qua eccoci quasi, sì ecco qua, adesso possiamo cominciare con la pulizia del viso aveva già qualcosa sul volto? ah, un trucco? o altro? mi faccia controllare? no, sembra a posto? ottimo, è ottimo bene, un po' qui ecco certo, ne ho messo un po' anche sulle mie mani ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua è davvero una bella bellissima e adesso risciacquiamo è davvero una bella Ottimo Asciughiamo Ottimo Adesso Tonico Per far rinsavire un po' la pelle Questa era l'acido ieluronico Questa è un po' la pelle e 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 ottimo adesso occupiamoci prima delle lab questo è uno scrap alla menta ok labbra in fuori adesso ci occupiamo del contorno occhi adesso ci occupiamo del contorno occhi dal dal al 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 bene, come prossimo passo ci avremo dell'esfoliazione questo prodotto bene 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 ottimo e asciughiamo ottimo il prossimo step è il del siero trapante profumo lì buonito bene 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 ottimo vuole bere un po' certo ecco a lei si si glielo avvicino io non si preoccupi la penultima cosa da fare è spruzzare un po' di essenza bene 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 Bene, adesso Siero per le sopracciglia e per le cigna Sbatti le falpe proprio per me Le sopracciglia Le sopracciglia Bene, ottimo Ultimo ma non meno importante L'ippa Rimuoviamo la fascia Aspetta ti aggiusto un po' i capelli Sono un po' fuori posto Ecco qua Bene, io direi che abbiamo finito Vorrei volgerti alla mia collega Lì alla cassa Sono troppo felice Ti senti più rilassato Bene, sono contenta Allora ci vediamo al prossimo appuntamento Ciao Ciao